Che vuoi? Uomini e donne, Maria De Filippi umiliatina dopo lo scontro con James Uomini e donne gossip, Maria De Filippi furiosa con Tina Cipollari dopo lo scontro con Gemma? Ennesimo colpo di scena oggi, video virgola a cancelletto Uomini e donne dove abbiamo visto che nel corso della puntata odierna cancelletto Tina Cipollari ha versato una bottiglietta dacqua sulla testa di Gemma Galgani. L'episodio si è verificato dopo che per l'ennesima volta c'è stato uno scontro in trasmissione tra Tina e Gemma e anche questa volta tra le due dame sono volate parole grosse dove abbiamo visto che la Cipollari si è lasciata a Andrea questo gesto fortemente offensivo nei confronti della sua nemica. . Buffera a Uomini e donne, Tina contro Gemma, scontro in studio. Tina, dopo essere uscita dallo studio, è rientrata e di spalle ha rovesciato questa bottiglietta dacqua sulla testa della Galgani, la quale è stata colta di sorpresa. Immediata la reazione di Gemma nel momento in cui è stata umiliata per l'ennesima volta dalla Cipollari. . La dama torinese, infatti, voleva reagire e stava per togliersi dal piede una scarpa che voleva gettare dietro a Tina, ma per fortuna è stata fermata in tempo da Maria De Filippi. E' stata proprio la padrona di casa di Uomini e Donne a chiedere a Tina di fermarsi e quindi di evitare il peggio, lanciando anche una frecciatina che in un certo modo ha umiliato un po' Tina Cipollari. . Sì, perché Maria De Filippi ha chiesto a Gemma di essere una signora e quindi di non replicare al gesto offensivo della Galgani, quasi come se avesse voluto sottolineare il fatto che Tina non fosse stato per niente una signora. . Maria De Filippi umilia Tina Cipollari con una frecciatina velenosa. Del resto la reazione di Tina Cipollari ha scetanato non poche polemiche, video, in queste ore sul web e sui social, dove sono moltissimi coloro che si sono scagliati contro la Cipollari e contro il suo gesto ritenuto a dir poco offensivo nei confronti di Gemma Galgani. . In moltissimi ma sulla pagina ufficiale Facebook di Uomini e Donne ma anche su Twitter, stanno postando dei commenti negativi nei confronti dell'eccessiva esuberanza di Tina Cipollari, che oggi pomeriggio ha raggiunto il culmine. . L'opinionista di Uedì, infatti, ha effettivamente esagerato e questa volta anche i suoi stessi fan le stanno scrivendo di darsi una regolata e di placare gli animi in trasmissione. . Al contrario, invece, Gemma Galgani viene osannata sul web e sui social, in moltissimi si sono schierati dalla sua parte e le dicono di andare avanti in curante dei giudizi negativi di Tina, che ormai sembra aver perso un po' di credibilità in trasmissione. .